buongiorno io sono appena stata al mercato e ho comprato in teoria le ultime tra parentesi cose che dovrebbero servire per festeggiare per cui ho comprato i mandarini ho comprato le noci adesso finisco di sistemare il cesto della frutta così non è grandissime cose ma non è anche spazza per casa ho comprato le noci perché le noci non possono mancare perché fanno bene al cervello e il mio cervello se no non va comunque mi raccomando questa sera ore 21 su youtube facciamo la diretta mi raccomando non mancate vi aspetto eh io vi aspetto per cui ore 21 questa sera non mancate su youtube diretta per farci gli auguri ci vediamo d'oggi e 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